Un cordiale saluto, buon sabato a tutti, benvenuti alla rassegna stampa del mattino. Sono le 7 per chi ci segue in diretta e che tra poco vedremo i giornali, tra poco abbiamo selezionato le pagine più importanti come sempre. Adesso però diamo uno sguardo al santo del giorno per fare gli auguri anche di Bononomastico, non so se possiamo farli. Sì, San Paolo, Miche e compagni, quindi possiamo fare gli auguri di Bononomastico a Paolo e a tutti i compagni, chi ha voglia può leggersi anche i nomi. 7.22, 17.28 il tramonto, grazie. Andiamo a vedere adesso il tempo. Il tempo grazie alla protezione civile delle Marche che ogni giorno pubblica sul sito della Regione Marche il bollettino dal quale si può vedere che tempo farà nella giornata di oggi, per esempio, sabato 6 e anche nei prossimi giorni. Oggi attenzione soltanto alle foschie e banche di nebbio, per il resto solo nuvolosità sulla costa e variabile nell'entroterra. Ma domani il tempo peggiora, come vedete dalla grafica, con precipitazioni nelle zone collinare, montane, sparse, isolate altrove. C'è anche la neve intorno ai 1.600 metri. Domani l'altro, invece, lunedì, la settimana si apre ancora con nevicate intorno ai 1.100-1.500 metri, in aumento nella serata. Le temperature saranno domenica, anzi lunedì, in diminuzione e soprattutto nei valori massimi, quindi tornerà un po' di neve. C'è anche il vento, lunedì, burrasca forte nelle zone collinari. Poi il tempo peggiora ancora la prossima settimana, ma non sarà tutto questo gran peggioramento. Intanto iniziamo a leggere e a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Cominciamo dal Carlino, questa mattina. Intanto la notizia, insomma, un po' così così, ieri mi pare o ieri l'altro parlavamo delle scuole che in questo momento, anzi sul Corriere Adriatico di ieri, mi pare sulle scuole che tutto sommato non avevano registrato grandi problemi a dieci giorni dall'inizio, dall'apertura, dal ritorno, soprattutto in presenza del 50% degli studenti. In realtà sulla pagina di Pesaro, vedete, Focolai in due scuole. È polemica, qualcuno dice adesso meglio chiuderle, però l'Asur ha già detto che non lo farà, ha già detto che rimarranno aperte. La cronaca esce dal lavoro bastonato e rapinato. Due banditi gli hanno teso un agguato fuori dalla fabbrica per strappargli la borsa con dentro 1000 euro. Siamo in zona gialla, lo saremo ancora per una settimana e per questo fine settimana, per questo weekend, aumenteranno i controlli. I ristoranti che riaprono a cena, per un po' si è sperato, qualcuno ha sperato, i ristoratori, si era diffusa questa notizia, poi in realtà è stata smentita dal Comitato Tecnico Scientifico, quindi i ristoranti saranno comunque ancora costretti, anche quelli in zona gialla, a chiudere alle ore 18. C'è stata dunque questa frenata, vedremo se ci saranno allentamenti. Intanto, sempre dalla prima del Carlino, la storia infinita, ex tribunale, ancora guerra legale, la ditta chiede 150 mila euro. Poi il progetto di Aspes, tagliamo 42 alberi malati a Pesaro, ne pianteremo molti altri. Il mondo dello spettacolo, con il pianoforte davanti al teatro, protesta in musica. Casi in provincia, positivi a marzo, ora il contagio bis, ma hanno sintomi lievi. L'ex primario Orbino torna in prima linea, Mezzolani guidava il pronto soccorso, ora andrà alla RSA di Macerata Feltri. Poi sull'edilizia, la CNA, rischio speculazione, col bonus 110%, la denuncia dell'associazione di categoria, costo dei materiali, aumentato fino al 70%. Meglio l'armadio del negozio, il titolo d'apertura del Carlino del Corriere di Pesaro. Si parla di abbigliamento, i commercianti, è l'epoca del riciclo dei vecchi capi. Siamo aperti, ma non c'è praticamente nessuno. Dunque, come dire, in questo articolo si parla di come la gente sta preferendo in questo momento vedere un po' quello che c'è dentro l'armadio, piuttosto che andare a fare ulteriori acquisti. Il caso dei centri commerciali, c'è chi lascia l'attività e affitta un nuovo locale per lavorare nel fine settimana. Centropagina, tamponi nelle scuole per 5.215, le scuole sono quelle pesarese, il sindaco Ricci dice ora lo faccia anche la regione. Sotto invece Aspes abbatterà 42 piante al mare, ne piantuma 150. A Urbino, discarica Calucio, subito subiti, scusate, troppi ritardi ad errori continui. Poi a Fano, esercente, il comune gratuito, dice il raddoppio degli spazi esterni. Sotto pescano il tonno rosso, due di portisti finiscono nei guai. La capitaneria di porto di Pesaro li sorprende, intenti a caricare i tranci del bottino nella loro auto. Tranci che in pescheria arrivano a costare 35 euro al chilo e che sulla tavola sono ancora più ricercati, individuati dalla capitaneria, mentre due di portisti li stavano caricando in auto dopo averne pescato un esemplare. E poi un party a base alcolica, calci e minacce ai carabinieri, scatta l'arresto. Di spalla guida al primo weekend aperto e saremo gialli per altri nove giorni, scrive Martina Marinangeli questa mattina sulla prima del Corriere Adriatico. Un'altra settimana, dicevamo, in zona gialla, la situazione epidemiologica sostanzialmente stabile, garantito alle Marche un posto nella fascia di rischio con meno restrizioni. L'annuncio lo ha dato il Governatore Acquaroli su Facebook, ma il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità ha declinare le ragioni della conferma. Ora, nella pagina, la nostra segna stampa questa mattina, l'apriamo con la pagina del Carlino, pagina 9, dove si traccia un profilo del Presidente incaricato Draghi. Allora, vediamo chi è Draghi. Poche parole, competenza, niente social. Questo anche per fare un po' la differenza con Giuseppe Conte. Il nuovo stile Draghi è anche sostanza. Draghi dà a tutti del lei, soltanto a Matteo Renzi ha dato del tu, e veramente a pochissimi altri, ma si contano sulle punte di una mano, delle direte di una mano, a Matteo Renzi ha dato del tu perché aveva già avuto a che fare con lui quando era alla BCE. E allora, finite le dirette televisive, a cui ci aveva abituato Conte a qualsiasi ora del giorno e della notte, la vita in diretta sui social di Matteo Salvini e di leader che hanno fatto dell'ostensione della propria vita, praticamente della vita privata, un momento di comunicazione pubblica. E poi si parla delle casalinate, ovvero, leggi Rocco Casalino, che è lo spin doctor, colui che ha gestito Giuseppe Conte dalla mattina alla sera, prima di andare a dormire. Ora, qui abbiamo un uomo di un'altra pasta, fatta di un'altra pasta. Le casalinate dunque con quei tweet su Twitter, appunto, a tutte le ore del giorno e della notte, i book fotografici del Premier Conte, fintamente sorpreso al mare con la finanzata, oppure a parlare per strada con la gente comune, al duro lavoro di palazzo. Tutto questo, molto finto da sembrare vero come al grande fratello, sarà soltanto un ricordo. Adesso tocca a Draghi. Draghi sa che nell'epoca dell'immagine, dove tutto si appiattisce alla lunga, sono i fatti a marcare la differenza e che competenza e concretezza pagano più delle chiacchiere, che si sovrappongono sbiadite. Dunque, Draghi, pensate, niente Facebook, non usa Facebook, non usa Instagram e non usa neanche WhatsApp. E voi direte, come farà? Non usa WhatsApp, si può vivere lo stesso anche senza WhatsApp. Non si è dotato di un portavoce, ha il terrore dei giornalisti e quindi anche in questi giorni di consultazioni passa nel palazzo dalle porte secondarie, ne ha diverse, quindi ogni giorno ne usa una. E pare che abbia scelto come staff, che userà come staff, persone che già aveva a Banca Italia, quando era a Banca Italia, e le userà appunto come collaboratori per la comunicazione. Quindi lo sentiremo poco parlare, ma speriamo di vederlo molto al lavoro con fatti. Si è limitato, come dicevamo, a dare del tu soltanto a poche persone, e quindi questo per dire di che pasta è fatta. C'era Mario Monti, che lo stesso era uno con il suo, che era tutto precisino, e che una volta soltanto si lasciò andare, come tra l'altro scrive nell'articolo questa mattina il Carlino, si lasciò andare in una trasmissione dove prese in braccio un cagnolino, ma il risultato quella volta è stato veramente pessimo, nel senso era una cosa finta che è stata veramente imbarazzante. Marca in zona gialla invece, per un'altra settimana, qui siamo sul Corriere Adriatico, vaccini ora agli over 80, chi ha più di 80 anni sale l'indice di contagio, che resta comunque sotto l'1, pesano i focolai però, pesano i focolai negli ospedali e ancora nelle case di riposo. L'assessore Saltamartini parla di profilassi da attivare per circa 123 mila marchigiani, la somministrazione a domicilio per chi non è in grado di uscire, prenotazioni attraverso la piattaforma informatica attivata dalle poste. Le regioni vogliono aprire invece i ristoranti anche a cena, ma il CTS gela tutti, servono più restrizioni. Dopo il monitoraggio, l'Istituto Superiore di Sanità scattano zone rosse locali, solo la Sardegna da lunedì torna gialla. A Roma chiusa la piazza della Movida. Ora, sui ristoranti, per quanto capiamo tutti quanti davvero che la situazione è drammatica, non vorrei essere nei panni di un ristoratore che magari ha un ristorante e ce ne sono tanti amici, e quindi so quello che sto dicendo. Però, l'altro giorno, anzi un paio di giorni fa, come al solito, per il lavoro che faccio, spesso sono a ristoranza, tutti i giorni in pranzo al ristorante, quindi vedo quello che succede. L'altro giorno c'era una tavolata di persone, uno bocca a bocca erano, erano 15-20 persone, stavano festeggiando non so che cosa, bocca a bocca. Cioè, lì se ce n'era uno che aveva il coronavirus, immagino fra qualche giorno saranno la metà, saranno tutti a letto con l'influenza o comunque positivi, perché è impossibile una cosa del genere. Non è fattibile, quindi va bene aprire. Ma anche io, per esempio, sarei dell'idea che quando si mangia, ok, la mascherina ovviamente non si può usare al ristorante, ma quando non si mangia, al ristorante sarebbe opportuno tenere la mascherina. Teniamo la mascherina. E già questa è una restrizione in più, ma è anche una garanzia in più. Quando si mangia non si parla, si mangia e quindi non serve la mascherina. Quando finito di mangiare, quando si fa colazione al mattino, uno mangia la brioche, poi quando si alza va a pagare e mette la mascherina, oppure quando va a prendere un'altra brioche o un altro salato, rimette la mascherina, quando si muove, ecco, al ristorante dovrebbe essere la stessa cosa. Non è stare al ristorante così? Eh, allora si sta a casa. Però diversamente, altrimenti non ne usciremo più vivi. La gente comincia a parlare con gli elettrodomestici a casa, capisci? Siamo un po', stiamo andando un po' fuori di testa. Ho una persona che conosco che si è messa davanti all'oblò della lavatrice per far finta di essere in aereo, cioè per stare un po', per rasserenarsi e stare tranquilla. Cioè, ragazzi, cerchiamo un attimino di... La strada è lunga, l'estate è ancora lontana. Andiamo a vedere invece, ecco, perché poi c'è anche un'altra notizia che, a proposito, la vedremo subito dopo questa pagina. Allora, Covid Hospital senza tregua, un intubato ogni tre giorni, la guarigione è molto lenta. Parla qui la dottoressa Daniela Corsi, che dirige la rianimazione dell'astronave a Civitanova Marche, voluta, realizzata da Bertolaso. Il Covid Hospital, naturalmente, continua a lavorare a pieno regime, non c'è una riduzione dell'attività o del numero dei ricoveri. In media, dice la dottoressa, ne abbiamo due o tre al giorno. Purtroppo, ancora non vediamo un orizzonte limpido e la curva non dà segni di abbassamento. Ci troviamo in continua emergenza. La semi-intensiva lavora molto, invece, sul pronto soccorso. E quindi, la situazione abbiamo visto che è questa, insomma. La malattia, dice, chiede il giornalista del Corriere, è diventata più severa, è più cattiva? La risposta è, abbiamo visto che quando attacca i polmoni con maggiore aggressività, li distrugge, anche in soggetti sani. E questo è il problema. Poi, l'altra notizia, invece, che non deve spaventarci, perché già si sapeva in qualche modo, però è così, pensavamo che fosse un po', diciamo che non ci toccasse da vicino, ma in realtà è così. Ci sono persone positive a marzo, quindi che hanno preso il coronavirus a marzo e che l'hanno ripreso per la seconda volta. Ce ne sono due nella nostra provincia. E quindi, diciamo che, insomma, questa cosa non è che ci fa tanto piacere. Però, essendo un coronavirus del quale non ci libereremo tanto facilmente, anche quando saremo vaccinati, faremo tutto quello che c'è da fare, perché di coronavirus, abbiamo già detto, ce ne sono diversi in circolazione e ci conviviamo ormai da sempre, ecco, anche questo chiaramente tornerà. E quindi, cosa è successo? È successo che, almeno in due casi, negli ultimi due o tre mesi, qui parla Gregorio Bucci, che è medico dell'Equipe Mediche Domiciliari dell'Usca di Pesaro, dice, negli ultimi due o tre mesi, abbiamo avuto almeno due persone che hanno avuto una ricaduta, un po' come si parla quando si dice di influenza, che da marzo questa persona, Gregorio, ha effettuato oltre 5.000 visite. Ora, si tratta di una donna di 40 anni che era stata colpita da una forma lieve in primavera, solo poche linee di febbre e che ora ha avuto una ricaduta con una sintomatologia della stessa entità. L'altra paziente, invece, scrive Simona Spagnoli nel suo articolo questa mattina, è invece una cinquantenne che a marzo ha accusato solo la perdita di gusto e olfatto e che ora però è stata colpita da una febbre sospetta. È stata sottoposta ad un'attacca che ha evidenziato una polmonite. Entrambe non hanno avuto bisogno di un ricovero e sono state curate a casa. Quindi, leggiamo anche quest'altra frase qua, perché è importante, tante i medici mettono in guardia da facili allarmismi, i casi di reinfezione sono rari e in quelli documentati non sempre sono presenti anticorpi dopo il primo contatto con il virus. Quindi, come dire, può capitare che uno prenda il virus in forma leggera, come è successo a queste due persone, non sviluppa anticorpi, per cui sì, è vero che ha avuto il virus, ma magari, ripeto, molto blando e poi è facile che possa riprenderlo una seconda volta, proprio perché il suo organismo non ha gli anticorpi, non ha il sistema di difesa contro appunto questa proteina spike che arriva, si incastra, prende e fa tutto quello che deve fare. Insomma, questa è un po' la situazione, ma non facciamoci prendere da ulteriore panico. Andiamo sull'altra pagina adesso invece, ecco, perché anche qui c'è il discorso tra le problematiche legate al coronavirus e il discorso delle varianti. Abbiamo detto nei giorni scorsi, chi ci segue in rassegna lo sa, che ci sono tre varianti. La variante inglese, quella famosa che abbiamo scoperto per primo, anche qui nella nostra regione ce ne sono alcuni. Poi c'è la variante sudafricana e la variante brasiliana. Queste varianti, stando al titolo di questa mattina del resto del Carlino, siamo a pagina 11 e le varianti sono aggressive soprattutto con i giovani. Rezza dice correre per fare più vaccini. Da martedì le dosi arriveranno agli insegnanti e alle forze dell'ordine. Arcuri, che è il commissario, dice siamo pronti a produrre il siero Pfizer e Moderna anche in Italia. Obiettivo, 6 milioni e 483 mila italiani vaccinati a fine marzo. Siamo a 60 milioni, 6 milioni comunque è una percentuale e sarà una corsa contro il tempo con l'incognita però di forniture ballerine, un po' a singhiozzo. A ieri le dosi vaccinali somministrate in Italia erano oltre 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 4, ma questa settimana abbiamo superato le 80 mila dosi al giorno e giovedì si sono toccate le 95 mila vaccinazioni. E dunque, questo è un po' il quadro ad oggi. Intanto l'antinfluenzale smorza il Covid, quindi chi ha fatto l'antinfluenzale sappia che smorza questo Covid. E lo studio dice così bimbi superprotetti, i piccoli col vaccino stagionale difficilmente manifestano sintomi da coronavirus. Ora c'è il problema della scuola, almeno nella provincia di Pesurbino abbiamo visto che ci sono due scuole dove sono sorti dei focolai e dove ci sono i focolai la situazione se non viene tracciata subito e circoscritta è un problema. Perché o si chiude la scuola come chiede qualcuno oppure o si fanno i tamponi, si tracciano, quindi si individua oppure il virus si propaga. A meno che non ci siano le distanze e le mascherine. Cluster in due scuole ma l'Asur non le chiude. Il preside Riccardo Rossini solleva il caso della Fermi e della Don Gaudiano. Lui dice, Riccardo Rossini, presidente dell'Associazione dei Presidi, va interrotta, vedete, la catena dei contagi. La dirigente dell'Istituto Leopardi aveva chiesto lo stop del plesso di via Fermi. Insomma, questo è un problema ma chiudere adesso le scuole di nuovo è un ulteriore problema. Ricci invece dice servo un secondo screening e bisogna farlo anche alle scuole medie. Il sindaco che ha presentato i numeri di questa campagna un po' forzata rispetto a quello che abbiamo visto anche dal punto di vista politico però alla fine è andata tutto bene. Mi pare che sia andato tutto bene e quindi il sindaco torna a bussare alle porte della regione Marche nel giorno in cui tira appunto le somme dei tamponi fatti a scuola oltre 5.100 le adesioni a scuola ricordiamo che le adesioni sono volontarie quindi non c'era l'obbligo di fare il tampone un 65% però della popolazione scolastica si è sottoposta al tampone il totale è stato di 16 positivi quindi su 5.100 studenti professori eccetera soltanto 16 persone positivi tra cui 12 studenti quindi 12 studenti e 4 del personale vario ora le Marche ancora in giallo ma spunta un altro caso della variante inglese siamo sul Carlino edizione di Ancona si tratta di una quarantenne dell'Osimano che è stata portata al pronto soccorso a Torrette la variante inglese torna a far paura ricoverata in pronto soccorso una donna soccorsa nel comune dell'Osimano il test a cui è stata sottoposta ha confermato che la donna di circa 40 anni risultata positiva al tampone è stata accolta dalla variante inglese con il livello di contagiosità più elevato ma sostanzialmente non dissimile dalla variante europea che ha interessato il nostro paese quindi al di là dell'apertura di questo articolo di Pierfrancesco Curzi che effettivamente mette un po' in ansia in agitazione perché si dice che appunto torna a far paura però in sostanza poi non cambia granché perché come abbiamo detto la variante inglese anche se uno becca la variante inglese di diverso dall'altra da quella europea c'è solo il fatto che è più veloce nel contagio per il resto non è più aggressivo quindi anche su questo cerchiamo di stare tranquilli non mettiamoci a terrorizzare per senza niente dunque intanto la curva del contagio resta stabile con i sintomatici in leggero calo l'RT regionale è a 0,95 attenzione a sgarrare agenti in borghese sulle strade e dico era ora obiettivi o sicurezza e controlli delle forze dell'ordine saranno intensificati per questo primo fine settimana di maggiori libertà i ristoranti da tutto esaurito Saltamartini detta ai tempi delle vaccinazioni palazzetti pronti e si pensa anche all'aeroporto quello di Falconara da metà febbraio gli ultraottantenni poi a primavera parte la seconda fase calendario rispettato siamo tra le migliori regioni dice l'assessore alla salute alla sanità Filippo Saltamartini per quanto riguarda invece la tassa a Fano sull'occupazione pubblico tassa sull'occupazione del suolo pubblico ecco il compromesso del comune gratuito il raddoppio degli spazi esterni quindi chi vuole raddoppiare eccetera sarà gratuito mentre più sedie fuori all'esterno la ratifica dopo il no di Lucarelli agli esercenti si pagheranno solamente i primi 50 metri quadrati gli altri invece saranno gratuiti invece il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi dice il protocollo sul turismo volano per le microimprese soddisfatto il sindaco che ricorda il cattivo esempio invece di Pesaro c'è una novità sulla pagina del Carlino di Fano per quanto riguarda il corpo del Beato Antonio lo ricorderete quello che è stato trovato murato dentro messo in verticale nella nella chiesa di Santa Maria Nuova pare secondo padre Giancarlo Mandolini che ha scritto un libro che è in uscita in questi giorni pare che ci sia un altro corpo vicino a quello del Beato Antonio con me ha parlato un testimone dice lui che assistette alla rimozione delle spoglie praticamente quindi un personaggio che si è presentato nelle settimane scorse l'ultimo probabilmente sopravvissuto che ha visto queste operazioni eccetera eccetera e quindi sa esattamente dov'è e lui dice sì si è presentato questo testimone inaspettatamente spontaneamente nel mio studio una persona un testimone oculare che negli anni 50 del secolo scorso ha lavorato come secondo geometra per la ristrutturazione del nuovo pavimento della chiesa di Santa Maria Nuova la testimonianza è di grande rilevanza perché è unico sopravvissuto e mi ha indicato con precisione dove rinvennero il corpo e poi lei ha un'altra importante novità nel 1958 scrive Anna Marchetti furono due i corpi rimossi dall'altare maggiore uno era il Beato Antonio l'altro chi era? sì risponde il padre c'era un altro corpo piegato su se stesso che fu portato al cimitero e si chiamava Antonio D'Aurbino quindi dopo Antonio D'Afano c'era anche Antonio D'Aurbino di questo argomento però molto delicato ne parlo diffusamente nel mio libro e qui mettiamo la scritta pubblicità se troverò qualcuno che coprirà le spese della stampa e vabbè ok detto questo andiamo sull'altra pagina della nostra segna stampa sulla Tosap anche il Carlino titola il comune concede il bis il provvedimento interessa circa 100 attività e comporterà per le casse pubbliche minore entrate pari a circa 300 mila euro la politica fanese scissione nel PD no il contrario vogliamo solo più confronto dice Federico Perini poi sulle scogliere botte risposta tra l'assessore Aguzzi e il comune di Fano e Seri ricorda già spesi 8 milioni di euro sul carnevale carnevale di Fano ponte con Parigi Voulon ambasciatore di Fano scambio culturale tra gli alunni della Corridoni e Montessori e i pari età di Wissus che è una città appunto spero si dica così non lo so ma comunque francese Anselmi impegnato sulla piattaforma Meet per veicolare ai bambini lo spirito del periodo e poi questa foto del team 2021 dell'Aurora Fano parliamo di ginnastica l'Aurora Fano pronta per l'assalto allo scudetto la blasonata formazione di ginnastica ritmica al via in A1 a febbraio in quel di Napoli scogliere sballati tutti i tempi ma il sindaco correggia Guzzi il titolo dal Corriere ancora interrogazione Movimento 5 Stelle sui ritardi dell'intervento a Metauriglia ammesso dall'assessore regionale e poi per Sassonia invece l'ultima barriera è confermata poi priorità anche per Baia del Re e Gimarra Oasi con Fartigianato ha rappresentato le esigenze dell'intero litorale fanese da Vallefoglia il Covid emargina i giovani e il disagio si sta allargando atti vandalici sul presepe l'assessore Cerone dice al lavoro con gli operatori di strada e sotto anzi no nell'altra pagina da Urbino Calucio troppi ritardi ed errori ricorrenti sono i vincitori morali Mariangela Forlano di Cittadinanza Attiva dice loro hanno salvaguardato il territorio al posto di altri e poi da Urbino il Carlino Mezzolani torna c'è bisogno di noi dopo essere andato in pensione l'ex primario rientra ma nella residenza sanitaria assistenziale di Macerata barriere fluviali per raccogliere i rifiuti Enel già lo fa con gli sbarramenti idrici proposta di legge del Movimento 5 Stelle per fermare le plastiche del mare Valcesano appello per l'ospedale in agonia siamo a Pergola lettera all'armata della giunta di Pergola alla regione all'Asur per medicina e riabilitazione da Senigallia invece Summer Jamboree confermato ma si studia il format alternativo modificati anche i tempi della convenzione del 2022 e del 2025 eventi online anche per il Carnevale niente installazioni e luci di San Valentino in centro smontato invece il cielo stellato riprese le vaccinazioni nelle case di riposo sempre a Senigallia e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana arrivederci a voi di un buon fine